Onori al Presidente della Repubblica! Bandiera di guerra del primo reggimento Granatieri di Sardegna, reparto di formazione con banda dell'esercito pronti per la rassegna! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Reparto d'onore presentato... Onori al Presidente della Repubblica! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!